ciao a tutti sono Elena del benessereolistico.com oggi parliamo di sunflower in girasole un rimedio floreale che fa parte della floriterapia californiana ed è il rimedio utile da prendere nei momenti in cui non sentiamo più stima nei nostri confronti è proprio facilmente ricordabile come il fiore dell'autostima quindi il fiore che va a dare vibrazione alle persone che non si sentono adatte che non si sentono abbastanza che va a riequilibrare la visione di se stessi nei momenti in cui appunto ci sentiamo in carenza con il nostro io in carenza con il nostro ego il prendere questo fiore aiuta a riequilibrare la situazione e ci aiuta a capire che comunque magari abbiamo dei difetti ma che come persone valiamo e che sicuramente abbiamo dei pregi che vale la pena da mostrare al mondo